. US Open 2017, Anderson rimonta carreno busta, è finale. Anderson, fonte, chiocciola US Open Twitter. . Non vuole smettere di sognare Kevin Anderson, chi riesce ad agguantare una finale slam per la prima volta in carriera. Si arrende un generoso Pablo Carreno busta. Attende Nadal o Del Potro nella finale degli US Open 2017. . Torna ad insidiare il circuito Kevin Anderson, capace di snocciolare un gioco arguto per ogni tennista. Servizio potente in topspin, kick difficile da contenere, ed un gioco da fondo potente ed equilibrato. . Ha migliorato anche la sua forza psichica, grazie ad un mental coach. Opposto a lui lo stacanovista Pablo Carreno busta, tennista grintoso e mai domo, capace di lottare anche con entrambi i piedi nelle sabbie mobili. . . Anderson, come ampiamente pronosticabile, inizia spedito in battuta. Snocciola prime al fulmi cotone, esterne e centrali, timbrando due ace. Carreno busta replica poggiando sul servizio al corpo che spariglia le carte al sudamericano, pericoloso quando entra arrembante nella seconda. . Anderson è criptato per Liberico, che cerca codici per sbloccare la password della sua prima, mentre il prossimo top ten fa affidamento al suo tennis termometro, capace di aumentare la ruggine nei meccanismi del gigante sudamericano. . L'equilibrio dura sino al 3-3, poi la svolta. Risponde in maniera celestiale Carreno, ferendo senza pietà gli errori del suo dirimpettaio. . . Assorbe un doppio fallo che lo trasporta 15-40, poi gioca un gran passante tra le stringhe di Anderson e strappa il break. Liberico acquisisce maggiore fiducia, riuscendo a muoverlo con relativa facilità. Set che non regala altri sussulti, 1-0 Spagna. . . Carreno busta, fonte, chioccio la US Open Twitter. Lo spartito tattico del secondo parziale rimarca quello del primo. Anderson cerca di trovare continuo ristoro nella debordante prima, Carreno busta ottimo al servizio e negli spostamenti. . . Sale 2-1 l'australiano, poi inizia la bagarre. Anderson piazza un game solido, leggendo le traiettori del servizio ed anticipando le stesse. . Costantemente in spinta, riesce a stanarlo e con un insede out di dritto si prende il vantaggio. Dura poco l'idillio però, perché nel successivo soffre l'entrata violenta e poderosa di Carreno sulla sua seconda. . . Liberico lo fa giocare, e con tre passanti antologici fa genuflettere il titano di Johannesburg. . 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